Mi presento. Sono Mario Mattia Giorgetti, nato a Prato molti anni fa. Nel 1959 mi trasferì a Milano per lavoro e studio. Dal 1961 svolgo la professione di attore e regista, essendomi appunto diplomato nello stesso anno alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano. Dopo aver lavorato tre anni al Piccolo Teatro sotto la direzione di Giorgio Streler e altri importanti registi, decise di uscire da questa istituzione per formare una compagnia di giovani attori denominata la contemporanea, perché il mio desiderio era quello di portare il teatro contemporaneo là dove non arrivava, cioè nei piccoli paesi della Lombardia, recitando ovunque, dalle sale da ballo, cioè i dancing, alle palestre scolastiche, nei ristoranti, teatri parrocchiali, nelle piazze, circoli culturali, eccetera. Insomma, ovunque si potesse raccogliere una comunità di spettatori a cui far conoscere il teatro di impegno sociale e umanitario. I nostri eventi erano sempre accompagnati da un pubblico dibattito, perché per me il teatro doveva e deve essere un coinvolgimento di saperi. E ora vi spiego come sono arrivato a conoscere e frequentare l'anarchico Giuseppe Pinelli e altri compagni. La compagnia, la contemporanea, fin dal 1968, aveva sede in piazzale a Mendola, Dona Fiera, in un seminterrato, le cui finestrelle si affacciavano proprio sul piazzale. Le prove si facevano soprattutto di sera, perché durante il giorno svolgevo attività che mi rendessero per la sopravvivenza, come spot pubblicitari, fotoromanzi, perché con le recite saltuarie che facevamo in Brianza rendevano poco o nulla. Durante queste prove serali notavo sempre una coppia che ci osservava da una delle finestrelle. Decisi di incontrarli. Lei si chiamava Magda, lui il compagno Alberto. Parlando scoprì che erano anarchici. Allora li invitai ad assistere alle prove perché ero interessato alla loro opinione di anarchici al testo che stavamo provando che, vedi un po', trattava di una rivolta di studenti verso un precede autoritario. Erano i tempi delle rivolte studentesche, della tensione sociale e quindi il loro parere mi era necessario. Magda, affascinata dal nostro lavoro, gli chiese se poteva seguirci in tournée che sarebbe da lì a poco iniziata. Capì che era una mossa strategica perché mostrava molta attenzione alla mia persona. A Bologna, dove debuttammo al Teatro la ribalta, avvenne quello che avevo sospettato. Iniziai così una relazione. Lei decise di lasciare Alberto. A rientro dalla tournée volle introdurmi tra gli anarchici del circolo Ponte della Ghisolfa, la cui sede si trovava nei pressi di Piazzale Lugano. E lì conobbi Luciano Lanza, un certo Umberto tipografo, detto Ciappu, Bartolo, un ricercatore universitario, e il ferroviere Giuseppe Pinelli, il ballerino Pietro Valpreda e altri di cui mi sfugge il nome. Quando io potevo Magda mi portava sempre in ambienti anarchici, come il circolo Scaldasole, dove erano vive molte discussioni sulla situazione politica del momento degli anni 68-69. Una sera emerse il problema di aiutare la Croce Nera, una organizzazione animata da un principio che mi catturò, quello della reciproca assistenza. Emerse che la Croce Nera aveva necessità di aiuti economici per assistere alcuni anarchici in difficoltà esistenziali. Fu lì che mi proposi. Stavo recitando al Teatro Rita di Milano, aspettando Godot di Beckett, e decise di offrire l'incasso di una serata alla Croce Nera. Il mio referente fu subito Giuseppe Pinelli. Fu una serata memorabile, dall'organizzazione impeccabile, teatro esaurito e applausi sentiti. L'idea di offrire una replica alla Croce Nera conquistò gli animi degli anarchici, tanto è vero che ad un altro debutto al Teatro Uomo di Piazza Manusardi, in zona ticinese, un teatro parrocchiale che avevo preso in gestione pagando al parroco un tanto ogni volta che avremmo recitato, propose una serata. Al parroco dovevamo dare un contributo modesto che potevamo tranquillamente rispettare con le casse e anche miserie che facevamo. Con Giuseppe Pinelli decidemmo di organizzare una serata tutta anarchica, il cui incasso, tolto l'affitto della serata e spese vive della CIA e compagnia, sarebbe stato devoluto alla Croce Nera. Il tema che lo spettacolo proponeva era di grande interesse per la filosofia anarchica, poiché l'autore del testo era un libertario patafisico, Boris Vian, autore francese, amato in Italia perché cantanti noti francesi e italiani da Yves Montan a Ornella Manoni cantavano la sua canzone, signor Presidente, canzone pacifista, antimilitarista. Il titolo dell'opera era Il rumore, ovvero il costruttore di imperi, un dramma che denunciava l'ascesa di un imprenditore verso il capitalismo, verso la proprietà privata, inseguito dal suo smurz, la coscienza, personaggio reso fisicamente visibile, che lo tormentava fino a quando vicino alla morte, a un tu per tu con lo smurz, l'imprenditore confessava di aver sbagliato tutto della sua esistenza. Non era l'amore del possedere che contava, bensì altro valore, e cioè la vita. L'argomento dello spettacolo era condiviso da Giuseppe Pinelli e gli altri anarchici perché poi sarebbe seguito un dibattito sul tema della proprietà che, come diceva il filosofo Pierre Giuseppe Proudhon, la proprietà è un furto. Fu fissata la data, eravamo in pieno inverno, Gli anarchici di Ponte della Ghisolfa e di Scaldasole furono mobilitati ad intervenire al sostegno della croce nera. Arrivò il giorno della rescita. Il tempo era minaccioso. Prospettavano un forte temporale che proprio l'ora prima dello spettacolo si scatenò. Noi attori comunque eravamo in teatro pronti alla rescita. Giuseppe era già arrivato per l'accoglienza dei compagni e stava sulla porta d'ingresso mentre la pioggia scendeva giù a catenelle. Aspetta che ti aspetta. Non arrivò nessuno. Giuseppe si agitava e brontolava se stesso e impregava sacramente verso la pioggia che imperversava. Aspettammo per oltre un'ora. Poi annunciai alla compagnia, composta da sei elementi, che lo spettacolo era sospeso. E ora racconto ciò che mi commosse di Giuseppe. Deluso, affranto per il fallimento della serata a causa della pioggia, mi guardava ma non osava parlarmi. «Dai Giuseppe, il tempo è contro di noi, ci riproviamo la prossima volta», gli dicevo. E lui, «Sì, ma il parroco va pagato perché il teatro è stato aperto. Non ti preoccupare, provvederemo noi. No, 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 dimmi quanto è, ti farò un assegno. Non è giusto che ricada sulla compagnia», replicò. Prese il suo borsetto, il libretto degli assegni, lo compilò e me lo diede. Io, rimasto a bocca aperta per la generosità e il rispetto dell'impegno preso, lo abbracciai e chiusi con «Non lo dovevi fare, Giuseppe, eravamo noi che volevamo dare un contributo alla Croce Nera, invece ora sei tu che dona a noi». Comunque, grazie. Dopo pochi giorni accadde il tragico fatto di Piazza Fontana dove furono coinvolti Valprete le Pinelli, che alla questura di Milano fu defenestrato davanti agli occhi del commissario Calabresi. Ormai la collaborazione e la frequentazione con gli amici anarchici nel tempo andava avanti, tant'è vero che, insieme al pittore Enrico Bai, organizzammo uno spettacolo meraviglioso dal titolo Rehubu a Chernobyl, ovvero da Pinelli all'Apocalisse, viaggio di gruppo con Enrico Bai, tra mostri ordinari e straordinari, un laboratorio artistico diretto dallo stesso Enrico Bai e Pesformance teatrale per la mia regia, coreografie di Claudio Alonso, dove facemmo agire con musica, movimenti, poesie, canzoni, le sagome di Bai, giganti, di questi personaggi mostruosi che Bai aveva realizzato apposta per gli amici anarchici, di cui lui stesso si identificava. Fu rappresentato, se ben ricordo, alla Facoltà di Architettura di Milano il 19 dicembre 1986. Concludendo, frequentando i compagni anarchici, scoprì il caso Sacco e Vanzetti. I due lavoratori uccisi perché, soprattutto anarchici italiani, e l'America di allora, spaventata dall'avanzata del comunismo russo, doveva dimostrare la sua resistenza al fenomeno rivoluzionario mettendo in piedi pretesti falsi. Il tema mi cattolò tanto che mi dedicai al loro caso fino a coinvolgere il senatore socialista Pietro Nenni a costituire un comitato internazionale, di cui lui fu presidente e io vice presidente, per il riconoscimento dell'innocenza, notate, dell'innocenza, dei due lavoratori italiani. E tanto fu il lavoro che riuscimmo a fare. Il governatore del Massachusetts, Dukakis, ci confermò della loro innocenza, poiché il processo che li aveva condannati era viziato. E per questo risultato desidero ringraziare quella Magda che mi introdusse nel mondo degli anarchici milanesi e di farmi conoscere Giuseppe Pinelli, libertario umanitario.